Benvenuti, ben ritrovati con lo spazio informativo di Caffè TV 24 dalla provincia veneziana. Quello che chiediamo all'amministrazione Brugnaro è di attivare politiche concrete ed efficaci per sostenere e favorire la residenza a Venezia, con affitti almeno accessibili. Siamo convinti che una città abitata dai suoi residenti costituisce il presupposto per far rivivere Venezia. Queste le parole di Marco Secchi, uno dei fondatori di Awakening, che si batte da più di due anni per il tema della residenzialità e che lo fa anche come venerdì notte tappezzando la città con poster e manifesti, la fotografia utilizzata per raccontare la storia di chi non vuole andarsene da Venezia verso, ad esempio, la terraferma. Venezia è una città spopolata ma sovraffollata di turisti e Awakening punta il dito contro i portali online di affitti brevi. Online, infatti, in un solo portale si ritrovano più di 5.500 appartamenti, di cui il 76% in affitto per tutto l'anno. Vere azioni commerciali e non singoli che cercano di integrare part-time il loro reddito. Alcuni gruppi posseggono anche 50 appartamenti online. Questo è quanto appunto detto da Awakening. Lentezza esasperata delle sentenze, così la Corte dei Conti del Veneto ha condannato un magistrato a risarcire 20.000 euro allo Stato. Stato che a sua volta si è visto costretto a risarcire alcuni cittadini danneggiati dalla lentezza dei processi condotti proprio da quel giudice, Aldo Giancotti, in servizio al Tribunale di Belluno. Sessantenne, per molto tempo una delle colonne portanti del Tribunale di Belluno, oggi invece assegnato alla Corte d'Appello di Venezia. Sotto accusa sono finiti alcuni processi che si conclusero a Belluno, appunto con la lettura in udienza del dispositivo della sentenza. E questo tra il 2003 e il 2005. Successivamente però passarono più di 4 anni per il deposito delle motivazioni, quando il termine massimo è di 90 giorni, salvo casi di particolare complessità. Così 7 cittadini, 6 dei quali peraltro condannati dallo stesso giudice, si rivolsero alla Corte d'Appello di Trento. Sulla base della normativa europea dell'equo processo ottennero un risarcimento variabile da 3 a 6.000 euro in base al ritardo. Come evidenziato dagli ispettori ministeriali, la produttività del giudice comparata a quella dei suoi colleghi ha dimostrato il suo difetto di capacità organizzativa. Ancora tanti i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Elena Boscolo, contadina 28enne, che la notte di Natale è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada in via Giovanni da Varazzano, sottomarina di Chioggia, insieme al suo fidanzato Alberto Debei, che invece ha riportato delle ferite alle gambe. Ad investirli una Citroen C3. Il guidatore, un 24enne residente nella zona dell'incidente, non ha prestato soccorso. Anzi, dopo aver parcheggiato l'auto sotto casa, ci è tornato ed è stato sentito dai carabinieri, ma non si è dato ancora a sapere se come testimone o come re ho confesso. Fatto sta che l'uomo non avrebbe prestato alcun soccorso e per questo è stato denunciato per omicidio colposo e appunto omissione di soccorso. A Marghera, in uno dei bungalow del camping Jolly, a quanto pare la sera dell'antivigilia di Natale, si stava consumando un droga party. E questa volta, probabilmente a causa anche dell'occlusione della orta a lasciarci la vita, è stato Alessandro Gatto, 38enne di Treviso. Nel sangue, tracce di cocaina, eroina e doppiacei. Al pronto soccorso era arrivato dopo che i sanitari lo avevano trovato privo di sensi nel bungalow del campeggio. Condizioni valutate subito, critiche. Il decesso, poche ore dopo. La polizia ha proceduto con l'identificazione di tutte le persone che erano con lui. Si tratta di un altro trevigiano di 50 anni, una ventenne e un sessantenne di Venezia. Non si esclude che possano venire indagati con l'accusa di morte come conseguenza di altro reato, dall'accessione di droga all'omissione di soccorso. Il giorno di Natale, verso le 19, gli agenti della polizia sono dovuti intervenire a Mestre, in Piazza Barche, per l'aggressione ad un trentenne veneziano. L'uomo è stato sorpreso alle spalle da due sconosciuti che, a forza di pugni, sono riusciti a sottrargli lo smartphone e anche il portafoglio. Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso. Gli assalitori, probabilmente due nordafricani, fuggiti poi verso corso del popolo. La polizia sta ancora ricostruendo l'accaduto anche con l'utilizzo delle telecamere installate in alcune banche nella zona. A Portogruaro, sempre l'antivigilia di Natale, due fratelli, uno di 31 anni e l'altro di 18, si incontrano al centro commerciale adriatico. Tra i due fratelli non corre buon sangue. Iniziano con le parole, ne consegue una furibonda lite, tutto davanti a centinaia di persone. Presto però passano alle mani e il fratello minore, sembra con una forbice che però non è ancora stata ritrovata, si scaglia contro il fratello maggiore procurandogli una brutta ferita al volto. Prognusi di 12 giorni per l'aggressore invece, arresto per lesione aggravata. Ladri in azione a rubare cancelli dalle case di Jesolo per poi rivenderli. Diversi colpi messi a segno nell'ultimo periodo, l'ultimo domenica nel giorno di Natale. In alcuni casi riescono a portare via anche le staffe e il piantone centrale. Una volta o anche l'intera cancellata, sono riusciti ad appropriarsi anche di un grande tavolo in ferro con il ripiano di vetro, nonché di due scale. Gli inquirenti pensano quindi che la refurtiva venga caricata in un furgone. I residenti invece chiedono al sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, molta più illuminazione in queste zone. E questa notte intervento dei vigili del fuoco in una zona di Venezia, Lezzitelle. Il gabbiotto in legno in uso della polizia municipale di Venezia ha preso fuoco. Indagini sono adesso in corso per capire l'origine dell'incendio, se si tratta quindi o meno di un atto doloso. Ora veniamo all'ultima notizia che riguarda la pagina sportiva, in particolare il basket. L'Umana Reier sta giocando in questo momento la partita valida per il campionato contro Varese. Noi nel frattempo vi facciamo invece vedere il servizio della festa di Natale, proprio al tagliercio di Mestre, con i consigli del coach Walter De Raffaele. Il bilancio è sicuramente un bilancio positivo, la squadra sta facendo buone cose, abbiamo preso un buon ritmo, adesso c'è un pochino di stanchezza, però insomma dobbiamo continuare perché purtroppo nonostante le feste per noi sarà lavoro, ma non ci lamentiamo perché ci sono cose peggiori, quindi andiamo avanti, continuando a lavorare senza parlare troppo. E questi bimbi oggi, questa grande festa, tanti bambini, un consiglio da un allenatore? Il consiglio intanto è sempre bello vedere tanti giovani, tanti bambini, tante famiglie perché sono il futuro di questa società in generale. Il consiglio è quello di divertirsi sempre, di non pensare mai di giocare pensando di arrivare a essere campioni, avere un minimo di ambizione normale, di competitività perché questo è giusto ma bisogna divertirsi. Soprattutto capire dai più grandi che comunque questo è uno sport che cerca di far superare i propri limiti insieme, perché si è una squadra, accettando quello dei propri compagni e questa è la cosa migliore che può insegnare e quello che dobbiamo noi grandi far passare ai ragazzi che devono prendere questo atteggiamento, il fatto di giocare superando se stessi e andando sempre oltre, perché poi la vita non è solo gioco ma sono anche problemi veri e quindi noi cerchiamo di portare questo. E questa era appunto l'ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a giovedì e adesso lascio spazio ai miei colleghi. Grazie, buona serata. Grazie.